Sono stati ingenti i danni che il comune di Ficarra ha subito a causa delle forti piogge dello scorso autunno che hanno provocato diversi disagi alla popolazione, in particolare a causa dell'ingrossamento del torrente Brolo. A Ficarra sono arrivati dei fondi dalla protezione civile, in particolare c'è un intervento importante in territorio di Ficarra sul torrente Brolo, un intervento di circa 270 mila euro e poi piccoli interventi che riguardano, tre interventi che riguardano la viabilità rurale essenzialmente per un totale di circa 380 mila euro, questo per quanto riguarda i guasti che il territorio ha subito in occasione di eventi meteorici importanti che ci sono stati all'inizio dell'autunno come voi ricorderei. Non solo interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico ma anche finanziamenti per l'efficientamento energetico e per la ristrutturazione di importanti edifici nel borgo medievale di Ficarra. In particolare un finanziamento importante di oltre un milione di euro per la ristrutturazione della chiesa del Carmelo che è una delle emergenze architettoniche più importanti del paese anche se molto malandata in atto, quindi speriamo che venga fatto un bel lavoro e che questa chiesa possa tornare allo splendore che la contraddistingue. Poi abbiamo avuto un finanziamento qualche mese fa per il rifacimento dell'impianto della pubblica illuminazione, un finanziamento importante perché l'impianto è ormai risalente nel tempo e noi puntiamo con questo rinnovamento anche ad avere dei notevoli risparmi perché ormai si va a fare impianti di illuminazione con le luci a led che sono molto più economiche e che se scelte sapientemente non rovinano i paesaggi dei nostri piccoli borghi.